ma dove vai? ma dove vai? no nulla, c'è una foglia anche questa che è una foglia? si è una foglia, si si vieni ciccio dai prendetelo guarda fungo no no è troppo bello guarda fungo guarda fungo reggimelo così vai bello, complimenti bello 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 in primavera ecco le teorie di stefanino ma povere crack è bellino è proprio bello in classe B guarda scuro al sasso ecco questo questi sono i regali del bosco tutto meritato tutto meritato c'è stefanino che schignazza no no guardavo, ascoltavo le cazzate che dice ecco ecco come ecco 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 Musica Musica Marco Ecco, guarda che ci sono stamani, questo anche se in ritardo lo dedichiamo a Angiolino, che ieri era il suo compleanno, guarda, guarda un po'. Musica 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 buongiorno voleva fare l'intervista dai se mi paghi soldini cash money grazie della confidenza buongiorno grazie a tutti questa fungaia non si smettisce mai dove è che non lo vedo guarda, segui il bastone buongiorno 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 non ne posso più dire qui questo fungo vick lo dedico al mio più grande amico anche se l'hai trovato sei non voglio sapere chi è è Stefano il ciccio guarda caso è qui guarda caso è qui io dormito qui no buongiorno non 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 Grazie a tutti. Grazie. Il gastonello ti hanno dedicato dei funghi ai fagghi, no? Mettici questi qui insieme, ci facciamo noi una bella lecchia. Che ne dici Antonio? Il gastonello? Ah, ma i funghi da poco. Grazie a tutti. 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 Vieni di qua, che non ti vedo. Mi sono fermato a riflettere perché mi sono entusiasmato. Ho detto sono o non sono? Sono o non sono? No, è lui o non è lui? Sono loro o non sono loro? Te le prendo e le tiro via. Allora. E muovili piano. sono loro? Sono loro? Sono loro. No, non lo vedo. Non lo vedo. Non lo vedo. Vai, fagli vedere. Non lo vedi? No. Guarda bene. Eccolo. 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 Eccolo.